18 nuovi positivi, altri due ricoveri per covid, provvedimenti per tre classi e questo il bilancio del coronavirus per la giornata del 26 novembre in centro Abruzzo. Non un venerdì nero ma comunque tutt'altro che tranquillo su fronte del contagio che non si ferma. Il virus continua a fare breccia tra i fronti gestili e tracciali dalla ASL anche se nelle ultime ore nuove segnalazioni di positività al test antigenico sono arrivate sul territorio agli addetti ai lavori. Questo vuol dire che lo scenario epidemiologico potrebbe allargarsi, partecipare in massa allo screening diventa fondamentale per arginare la diffusione del covid. La prima giornata ad onor del vero non è stata in linea con le aspettative, solo un positivo intercettato su appena 200 test antigenici rapidi svolti, un avvio quindi sotto tono. Eppure notevole è stato lo sforzo e sacrificio con quattro postazioni allestite nel Palasport, circa 40 volontari che nella tre giorni si alterneranno tra sanitaria e protezione civile. La preoggia sicuramente ci avrà messo del suo per disincentivare le uscire dalla propria abitazione, però è importantissimo partecipare per salvare il Natale e soprattutto permettere al sistema di reggere e stabilizzare il quadro epidemiologico e evitare l'apertura di nuovi focolai. C'è ancora tempo domani, dalle 15 alle 18.30, poi domenica dalle 9.30 alle 14.00. Tornando ai contagi tracciali dalla ASL, i nuovi positivi hanno dai 7 ai 62 anni di età e risultano domiciliati 8 a Sulmona, 6 a Pratola Peligna, 1 a Pacentro, Introdacqua, Guriano Sicoli, Castel di Sangro. Di questi ben 8, quindi quasi la metà, sono in età scolare, la quasi totalità non vaccinabili. Per questo l'Ufficio Igiene e Prevenzione ASL ha diramato tre nuovi provvedimenti per le classi di riferimento che saranno convocate per il tampone. Nella casella dei nuovi casi sono finiti in totale quattro nuclei familiari, tra cui un'intera famiglia di quattro persone contagiata a Pratola. Complessivamente sono 348 gli attuali positivi in centro Abruzzo, di cui 189 residenti a Sulmona, a fronte di ben 22 guarigioni registrate. Nelle ultime 24 ore scendono i positivi totali, come pure i sorvegliati, che tornano sotto la quota alle 600. Ne sono 597 in tutto il comprensorio Peligno-Sangrino. Il tasso di ospedalizzazione si mantiene più o meno stabile, anche se il lieve incremento si tocca con mano nei registri ASL. Sono stati registrati altri due ricoveri nell'area Peligno-Sangrina, più un altro scattato in mattinata. Si tratta di un 43enne dentro d'acqua non vaccinato che è stato trasportato nei malattie infettive dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Salgono così a 14 posti letto occupati. Per mantenere la pressione ospedaliera relativamente contenuta si sta accelerando con le terze dosi e con le vaccinazioni in vista soprattutto del Natale alle porte. Le dosi programmate per l'inoculazione solo a Sulmona sono state 230.